Sviluppo dei circoli del territorio, attenzione alle problematiche vissute dai giovani e rilancio delle attività culturali. Saranno questi i tre temi al cuore dell'azione delle ACLI di Arezzo nel quadriennio 2020-2024. Le ACLI riprendono il percorso dopo la fase congressuale a livello provinciale e anche regionale sulla scia di quanto è stato fatto dalle due presidenze precedenti, quella di Enrico Fiori e di Stefano Mannelli. Ci dedicheremo molto al rilancio dei circoli e a cercare di supportare e anche aiutare i giovani che sono un'energia importante per la nostra società ma anche per la nostra associazione. L'associazione nel corso del congresso provinciale di fine settembre ha infatti individuato le linee programmatiche verso cui sarà orientato l'impegno nei prossimi anni. Il compito delle ACLI ad Arezzo in una realtà con un tessuto economico molto forte è quello anche di cercare un riequilibrio, di dare qualcosa di più a chi ha meno. Vale per noi il vecchio motto di Don Milani che fare parti uguali tra disuguali è profondamente ingiusto. Quindi un riequilibrio sociale è uno stare dalla parte degli ultimi. Compito di concretizzare il programma spetterà al nuovo presidente Luigi Scatizzi, ai vicepresidenti Valentina Matteini e Sergio Grazzini e al rinnovato consiglio di presidenza che aggrega professionisti di numerosi settori ed esponenti del mondo del volontariato cittadino con una significativa presenza anche di donne e giovani. Vorrei portare il mio contributo relativamente alla... portare l'attenzione sulla conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia. In particolare per noi donne che partecipiamo poco alla vita associativa e alla vita politica in generale, non solo comunale ma di questo paese, vorrei capire se non partecipiamo perché non vogliamo, perché non siamo messe nelle condizioni di poterlo fare.